Tutto il pubblico che è a migliaia hanno voluto partecipare a questa festa nuovamente dopo 16 anni dal suo inizio. Mi pare che iniziare il Catevalle di Venezia con il corteo di parchi sia sicuramente il miglior. I cittadini mancano tutti i nostri ospiti. Il saluto del sindaco Don Borsoli che oggi è in altra madre della città, è il giorno della memoria. Il saluto del sindaco Don Borsoli che è iniziato ieri e che oggi presenta qui in fondamenta di Cannareggio vuole dimostrare che è anche tutto una festa nella nostra città e di noi veneziani. Nella nostra venezianità non siamo tutti al pubblico, no? Nella veneziazione e con le nostre tradizioni e con il nostro corpo di essere veneziani che facciamo questa splendida e un piacere di questa festa veneziana grazie a Getting, di manfieldalnızca e di aeglie, di lavoro, di anni Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.